Rosalino Cellamare in arte Ron qui a Cirignola in Piazza Duomo alle 21.30 porta Lucio Dalla, è un tour che sta girando un po' tutta la nazione, un grandissimo successo Ron canta Lucio Dalla, canta l'artista, canta l'amico o canta il formatore? Beh no, io faccio questa cosa perché Dalla è un grande, è sempre stato un grande e mi dispiacerebbe molto che Lucio venisse dimenticato, per cui bisogna stare sempre dietro a questa cosa perché noi italiani abbiamo la memoria corta, in Francia ricordano tutto dei loro francesi che hanno fatto cose belle in Italia non è proprio così, e per cui canto per questo, quello di Lucio, perché è bello cantarle, tre cose, sono canzoni meravigliose Lei si trova nel centro della Capitanata, provincia di Foggia, la stessa provincia delle isole Tremiti, di Lucio Dalla, tanto amate Qual è l'emozione oggi? Beh, bello, tanto sono già stato qui a Cerignolo pochi anni fa, nell'86 credo, tanti anni fa La piazza è stupenda, bellissima, non pensavo ci fosse una piazza così bella, e per cui sono felice di venire a Cerignolo Quindi un concerto in una piazza grande emozionerà l'intera cittadinanza Un saluto da parte della redazione di Cerignolo, Viva e del Network Viva, grazie Grazie a voi